Allora abbiamo parlato prima di medicina integrata, a Bologna quando ho tenuto la reazione un'altra volta c'era anche il presidente dell'Artoica, ha parlato appunto di terapia integrata. Quello che adesso io voglio mostrarvi è un piccolo a premessa per quanto riguarda quelli che sono i concetti di base per arrivare a un concetto in cui c'è quella moneta a doppia faccia ricordata prima dal professor Spaggiari, il concetto cioè di integrazione tra quelli che sono i concetti di biofisica, di biochimica, sottolineando anche però l'importanza di quello che è il nostro microbiota intestinale. Quindi medicina preventiva è un po' l'aspetto che dobbiamo recuperare, noi stiamo parlando di soggetti fondamentalmente sani e che vogliono prevenire determinate condizioni mantenendo lo stato di benessere. Questo si scontra con la nostra mentalità, con la mentalità anche del sistema sanitario nazionale che è fondamentalmente una mentalità curativa, curo, prescrivo degli accertamenti nel momento in cui ho delle problematiche in essere. Vedete le due curve, questa è la medicina curativa, quindi una fascia di persone in salute dove precocemente incomincia il degrado, l'obiettivo della medicina anti-aging, che a me non piace come termine perché non è che possiamo evitare l'invecchiamento ma è più un healthy aging, cioè un invecchiare in salute, quello di andare a protrarre la parte di curva in cui noi manteniamo una condizione di benessere ottimale, in cui allontaniamo il rischio di comparsa di malattie che vanno ad accelerare il nostro declino. Quindi cosa vuol dire oggi medicina preventiva? Innanzitutto medicina personalizzata, molti accertamenti, molti percorsi diagnostici che sono finalizzati a terapie possono dare evidenze per andare a uscire da quelli che sono i classici tradizionali protocolli e andare a identificare quelle che sono le necessità del nostro paziente. È predittiva perché? Perché si possono anche integrare dei dati di tipo genetico, non perché nel DNA ci sia il destino o il fatto, ma perché nel DNA ci possono essere dei fattori che avvantaggiano o svantaggiano e che conosciuti al clinico possono permettere ulteriori informazioni per strategie terapeutiche. Preventiva che abbiamo vista è partecipativa ricordando come esiste anche il cervello e quindi quello che è il coinvolgimento emotivo del paziente, la sua motivazione e renderlo motivato diventa un fattore fondamentale per arrivare a tutti i discorsi di precondizioni cliniche che rappresentano oggi le principali cause di mortalità e morbidità nella popolazione. Quindi l'obiettivo è quello di andare a ottenere quello che viene chiamato successful aging, l'invecchiamento classico è quello usuale legato all'usura del nostro organismo, morto di vecchiaia come a volte si suol dire, la malattia è un fattore scatenante che accelera il percorso di invecchiamento ma l'invecchiamento di successo altro che non è quella possibilità di mantenere anche in età più avanzata quella qualità di vita, quella qualità di performance che praticamente si aveva in un'età precedente, tanto è vero che a 12 dicembre dello scorso anno l'Ordine dei Medici nazionale ha istituito la medicina potenziativa all'interno del codice deontologico staccandola dalla medicina estetica e appunto inquadrando l'applicazione della definizione di salute del Ministero dell'Organizzazione mondiale della sanità che non è solo l'assenza di malattia ma il mantenimento di un ottimale stato di benessere psicofisico. Da cui appunto ricordavo prima il suo spaggiare che ha partecipato ieri come relatore come associazione medici anti-aging con l'Ordine dei Medici di Milano e anche con quello nazionale a breve abbiamo istituito una scuola di medicina potenziativa in cui il primo anno una scuola di medicina anti-aging curata direttamente dalla nostra associazione poi c'è un biennio successivo di medicina preventiva per arrivare a una formazione completa che possa qualificare e individuare questo tipo di soggetti. In questo l'epigenoma diventa fondamentale, in pratica sono tutte quelle situazioni che attraverso quello che noi mangiamo, che noi introduciamo possono andare a modificare non l'ingegneria genetica, non i tasselli del nostro DNA che era, è, era e rimarrà lo stesso, ma modificando l'accessibilità fisica al genoma possiamo andare a modificare quello che è l'accensione, lo spegnimento di quelle che sono le funzioni legate ai geni. In questa stanza la muratura è quella, non la possiamo modificare, ma regolando gli interruttori della luce possiamo regolare l'intensità, possiamo fare più luce, meno luce, più ombra, quindi noi possiamo condizionare l'espressione dei nostri geni e lo possiamo condizionare attraverso l'alimentazione, attraverso la biochimica, attraverso la biofisica, perché sono tutti i fattori che intervengono sui cosiddetti fattori di trascrizione. Recentemente sono state pubblicate alcune evidenze che è un po' la scoperta dell'acqua calda, perché alcuni integratori non apparentemente funzionano se paragonate a quelli che sono i farmaci, perché è lo stesso problema della medicina curativa, farmaco, abbiamo delle valutazioni dei meccanismi di farmaco cinetica, per cui abbiamo la necessità che il farmaco rimanga in circolo per totore, alla caduta dobbiamo ripristinare la quantità circolante perché possa svolgere la sua azione. È un'azione diretta, farmaco, azione. L'integratore oggi si è visto che se dovesse rispecchiare questo tipo di discorsi, dovrebbe essere preso con una tale continuità per delle mivide estremamente brevi che praticamente diventerebbe impossibile anche giustificare i suoi benefici sia in vivo sia in vitro. Si è visto che in realtà in vivo il meccanismo d'azione, esiste in un'amplissima letteratura, poi vi darò due elementi di richiamo, in realtà è attivare dei fattori di trascrizione. Il famoso resveratrolo, spesso contestato, al di là dei problemi di biodisponibilità, non ha semplicemente un'azione diretta, antiossidante, ma un'azione di attivare fattori di trascrizione che vanno a inibire quelli che possono essere i geni che favoriscono lo stress ossidativo e vanno ad attivare superostismutasi, glutazione e perossidasi, che sono attività enzimatiche endogene del nostro organismo che possono permettere questo tipo di azione. Quindi oggi la medicina preventiva è genetica, per vedere come i geni possono essere modulati, exposomica, come i fattori metabolici interni dell'ambiente influenzano l'espressione genica, epigenetica, l'abbiamo già visto, nutrigenomica, come posso condizionare appunto l'accensione, lo spegnimento dei nostri geni attraverso scelte di tipo nutrizionale. L'obiettivo, in questa slide semplicemente più elegante, è anticipare l'intervento terapeutico quando sto ancora bene, in modo tale che rallentando questo tipo di discorso, ecco che praticamente vengo a gestire quelle stesse problematiche che la medicina curativa mi porta invece come concetto ad aspettare. Arriviamo al discorso del DNA, questa è la complessità, prendendo semplicemente riferimento al discorso obesità e diabete, tra fattori genetici, epigenetici e l'ambiente, ma questa interrelazione vale per la gran parte di tutte le patologie. Da una parte abbiamo infatti i geni, dal nostro assetto genetico, d'altra parte l'ambiente e il famoso dogma della medicina, della genetica, dell'esame di genetica, dato 35 anni fa, cosa diceva? Che a ogni gene corrisponde una proteina. E se allora si fosse aggiunto quello che oggi è patrimonio comune, che l'ambiente può condizionare l'espressione dei geni, sarebbe stato cacciato dall'esame perché avrei smentito quello che era il dogma ufficiale della genetica, ripeto, non dell'Ottocento ma di 35 anni fa. Quindi in semplici 35 anni c'è stata una rivoluzione concettuale fondamentale in cui praticamente noi possiamo sempre mantenere attivo quel dogma, ma possiamo anche andare a modificare l'espressione dei geni senza fare una ingegneria che ci modifica l'assetto in mattonelle del nostro DNA. E l'ovvietà qual è? Che praticamente tutti i nostri geni ci accomunano, ma ci siamo unici in quelle che sono delle caratteristiche particolari, che sono delle varianti che possono andare a modificare quella che è la nostra efficienza, il nostro benessere, la nostra risposta a tutta una serie di situazioni di fronte alle quali ci possiamo venire a trovare. Quindi non stiamo parlando di malattie mutagene, test genetici prenatali per valutare tutta un'altra serie di problematiche, non c'entra nulla. Andiamo a guardare quelle che sono delle sequenze che si possono modificare all'interno di una DNA, semplicemente andando a modificare quella che è una nucleotide. Sapete tutti che il nostro DNA è fatto di filamente, ad ogni nucleotide corrisponde rigidamente sull'altro filamento una base complementare, guanina, citosina, timina, adenina. Quindi se io modifico una base nucleotidica, automaticamente modifico in realtà una coppia di basi. Questo viene chiamato in gergo SNIP, single nucleotide polimorfismi. Sono quelle modifiche che possono modificare che cosa fondamentalmente? Nulla. Una modificazione non senza. Possono migliorare una funzione, ho più capacità antinfiammatoria, ho quindi più capacità di trasportare il colesterolo cattivo al di fuori dell'organismo, variazioni del gene CET, per fare un esempio. Oppure posso avere una perdita funzionale. Immaginiamo tanti test di intolleranza che però non discernono tra di intolleranze primarie e intolleranze secondarie. Il gene della lattasi, se chiaramente alterato geneticamente, ha una perdita funzionale. In Italia, un studio che abbiamo pubblicato, una conferenza stampa qualche anno fa, si viaggia intorno al 45-50% della popolazione, vuol dire che, bene o male, i qua presenti, la buona metà è intollerante al lattoso, statisticamente parlando, senza saperlo. È una grave malattia? No, però incide sullo stato di benessere gastroenterico. Nella donna, spesso non lo sanno, nel ginecologo, nell'ortopedico, esiste un'ampia letteratura che lo evidenza come una fondamentale causa di osteoporosi. Perché? Perché in intolleranza al lattoso ostacola il soppimento del calcio. Soprattutto in quella fascia di età giovanile che porta al picco del calcio e di conseguenza, saperlo precocemente, potrebbe anche fare effettiva prevenzione con un test che oggi costa molto meno di un breftest al lattoso. Stiamo parlando di un test di laboratorio che costerà poco più di 20 euro, quindi meno di tanti altri accertamenti. Questo richiama il concetto di prima, quindi una volta che io inquadro queste cose posso andare a cercare di andare a modificare tutta una serie di meccanismi che sono liganti di fattori di trascrizione, che quindi mi trascrivono certi geni o non mi trascrivono altri geni. Vie metaboliche intracitoplasmatiche, modificazione delle vie di trasduzione del segnale, tutti i meccanismi sia su cui agisce la biochimica sia su cui agisce la biofisica, andando fondamentalmente a cercare di condizionare l'espressione dei nostri geni. Non posso modificare fisicamente il DNA, ma attraverso tutta una serie di componenti bioattive posso andare a dirgli cosa deve fare, come deve procedere. Vedete quanti processi sono condizionati da questi fattori. Quindi la cosa importante qual è? Che da una parte abbiamo sì il genotipo, da un'altra parte l'ambiente, ed è il mix di queste due componenti che ci crea, e quindi crea quello che è il nostro fenotipo. Quindi la rivoluzione epigenetica cos'è? E ribadire che il DNA dà solo informazioni, ma che sta a noi andarle a gestire. È come se avessimo una pistola puntata alla tempia, non mi sarà piacevole tenerla lì, ma finché mi ricordo di non premere il grilletto, la pistola rimane lì e non succede alcunché. Quindi, anche se io ho fattori sfavorevoli, non c'è il determinismo assoluto che qualcosa si andrà a manifestare, tranne che in casi particolarissimi di mutazioni poco frequenti alla popolazione con alta possibilità di penetranza, cioè di trasformarsi in problematiche, tipo Braco 1 o Braco 2, ma sono discorsi che esulano l'incontro di oggi. Ma situazioni che, se conosciute, possono permettermi di attivare un comportamento. L'epigenetico, ovviamente, sono tutte quelle meccanismi che possono permettere di modificare che cosa? La lettura del DNA. Possono condizionare quella che è la sua fase di decompressione, quelle che possono essere la sua fase di replicazione. Quindi tutti quei meccanismi che attivamente ci possono permettere il condizionamento di leggere quelle che sono il suo ruolo fondamentale, che è il depositario della informazione. Quindi fenomeni che alterano l'accessibilità fisica al genoma da parte di complessi molecolari deputati all'espressione genica, alterando il grado di funzionamento dei geni senza andare a modificare, ingegneria genetica, quello che è il DNA in quanto tale. Qual è il concetto genetico? Che tutte le malattie croniche sono fondamentalmente un mix di questi due componenti, fattori costituzionali, fattori genetici. Ma se io non posso andare a modificare il genotipo, ecco che attraverso delle strategie di wellness posso allontanare il rischio di malattie e posso fare un management dell'ambiente interno ed esterno che può essere produttivo di un miglioramento della mia qualità aspettativa di salute. Tenendo presente che c'è tutto un mondo, già maneggiamo poco oggi il DNA, già maneggiamo poco la epigenetica, già maneggiamo poco la biofisica, perché siamo cresciuti solo con la biochimica, teniamo presente che prima o poi si parlerà molto di più di tutta quella parte non codificante del nostro genoma che, guardate, nella evoluzione delle specie rappresenta oggi quasi il 97% del nostro assetto genetico. Che vuol dire che, migliorando la specie, l'aspetto non codificante aumenta in misura tale da non avere nessun tipo di influenza. No, sono tutte quelle assetti genetici che praticamente vengono trascritti e che regolano tutta una serie di altre funzioni mRNA, pRNA, rRNA che praticamente vengono a regolare tante funzioni cellulari. Su tutte queste porzioni tutto quello che è il mondo della biofisica viene ad avere un'azione estremamente interessante come tutta una serie di studi oggi sta evidenziando e via via vengono ad essere pubblicati sulle principali riviste e sono ampiamente disponibili su PubMed e che possono ovviamente intervenire sui processi dell'invecchiamento sui processi della nostra qualità di salute. Questa è la slide che a me piace sempre vecchia ma piace sempre ricordare perché praticamente riassume la prima parte di quello che volevo esporre oggi. Da una parte abbiamo delle splendide foglie ma qualsiasi persona di voi che si occupa di giardinaggio sa che per andare a far sì che le foglie siano verdi, belle non deve semplicemente badare alle foglie ma deve badare alle radici e al terreno. Se una pianta acidofila e la mette in un terreno basico la pianta muore. Se ho una pianta basofila che ha bisogno di un terreno basico e la mette in un ambiente acido il terreno ne inficia quella che è la crescita. E noi siamo abituati a fermarci qua alle fronde pneumologo, diabetologo, allergologo dimenticando che oggi quelli che sono gli esami del primo bienio di medicina biochimica e biofisica li andiamo a perdere nell'evoluzione dei nostri studi ma rappresentano le cose che dovremmo invece andare a recuperare perché ci danno tutta una serie di spunti anche interpretativi di quelli che possono essere meccanismi sia di tipo diagnostico sia di tipo terapeutico. Oggi si parla di controllo cellulare disfunzione del proteasoma quando noi parlavamo solo di lisosomi e il proteasoma neanche si sapeva nei test di biochimica cosa fosse le proteine disaccoppianti quindi tutta quella che ha la funzione del mitocondrio che oggi è un po' il perno di tutti i processi che altrano la nostra salute tutti quelli che sono quindi controllo fisiologico controllo molecolare controllo d'organo e tessutale meccanismi di difesa antiossidanti sistemi di NRA per prima o no della medicina l'anno scorso tutte cose che non rappresentano fantascienza come certi nostri colleghi non aggiornati tendono a presentare ma anzi un invito ad aggiornarsi sempre di più per andare ad acquisire informazioni che al clinico quindi io non sono un ricercatore al clinico forniscono elementi più oggettivi per uscire dal solito protocollo vado a fare l'interesse del mio paziente andando a vedere cosa per quel paziente per quel mio paziente può risultare più adatto e più utile per questo mi piace chiamarlo check up del futuro quello che vi presento adesso che è praticamente un check up dinamico perché permette non semplicemente di fotografare l'istante ma di avere una visione di insieme dinamica con esami che possono anche essere ripetuti e confrontati con la situazione antecedente una volta ero a Istanbul a una conferenza che ho tenuto alla locale Confindustria espongo mi traducevano la mia speranza che mi hanno tradotto male se no non ho riuscito a spiegare nulla alza la mano ma io ho fatto ieri un check up e mi hanno detto che ho l'ECG perfetto e gli ho risposto non so quale segno scaramante che si usa in Turchia faccia pure libertà però non le ha fatto detto che domani lei non abbia un infarto stanotte perché? perché l'ECG ti fotografa a quell'istante è uno degli esami più inutili da un punto di vista di check up perché dice in questo momento non hai un infarto al limite non lo hai avuto silente ma non ti dice se domani lo potrai avere al limite un ECG da sforzo dà qualche informazione in più ma l'ECG basale è un elemento di contorno caratteristico che fa coreografia ma di sostanza dice ben poco dal punto di vista di ovviamente problematiche di questo livello allora se torniamo alla biochimica andiamo a guardare quelli che sono i fattori chiave ossidazione glicazione infiammazione metilazione ma il centro che cosa c'è? sempre la possibilità di condizionare l'espressione dei nostri geni infiammazione allora adesso vi do una panoramica l'infiammazione oggi è sempre più ribadita so che c'è un relatore che poi ne parlerà quindi vado rapido è semplicemente il concetto di flammaging scuola italiana come neologismo franceschi infiammazione e associata all'invecchiamento oggi avere informazioni sull'inflammaging è fondamentale io ho preso una slide recente per quanto riguarda l'obesità che è considerata una malattia infiammatoria perché tutto quello che succede è esattamente quello che succede nel nostro organismo nell'ambito di tutte le problematiche di tipo infiammatorio cronico quindi tutta una serie di problematiche che vanno via via che cosa ad andare a modificare la produzione delle citochine la triade è pro-infiammatoria TNF-alfa interloquina centro interloquina 1-alfa e beta danno mitocondriale diminuisce la biogesemia mitocondriale tutti i fenomeni che praticamente fanno sì che anche ci sia una differenziazione al contrario tra la dipocita metabolicamente attiva e quello non attivo all'aumento della ipertrofia all'attivazione di infiammazione arrivo di macrofagi altra infiammazione modificazione delle stenselle per cui si ha il passaggio da una semplice ipertrofia ad una iperplasia della dipocita ed ecco che questa mi piace molto perché di fianco a inflamaging possiamo anche coniare il termine di adipaging diciamo che questi neologismi sono abbastanza piaciosi come si solrebbe dire però vedete come la situazione che porta all'aumento di peso e a danno multiorgano è la stessa situazione che caratterizza la persona invecchiante e al centro sono i fenomeni infiammatori che condizionano vicendevolmente alimentandosi vicendevolmente lo stress ossidativo allora in un protocollo diagnostico allora l'importante è questo tutti gli esami può sembrare che abbiano un costo spesso l'obiezione è come fa il mio paziente a pagare tutti gli esami che possono servire visto che il sistema sanitario nazionale non copre ogni esame di tipo preventivo prima cosa l'esame genetico si fa una volta nella vita tutto quello che adesso vi mostro ha un costo inferiore di 100 euro quindi la più grande profilazione di geni che riguardano l'infiammazione la ventilazione l'applicazione il dna repair ossidazione hanno un costo inferiore al medico a 100 euro questo per dire come ormai i costi sono decisamente molto più accessibili rispetto a quanto si crede ma il test deve essere serio non ha senso che io guardo le interleuchine anti-infiammatorie se non so anche come funzionano quelle pro-infiammatorie è come se io andasse a guardare il famoso lato di una medaglia ricordato prima da Spaggiari e che bello ho una faccia ma dall'altra parte cosa c'è è una bilancia infiammatoria una bilancia ossidativa quindi dal punto di vista di un test genetico valido ci deve essere informazioni su fenomeni pro-infiammatori che hanno più frequenza come tipo di variazione a calo della carica dell'interleuchina 6 ma anche anti-infiammatori quindi la qualità di capacità di produrre tra virgolette passandovi un termine poco scientifico pompieri in grado di andare a spegnere gli incendi nell'organismo ma anche un dato genetico deve essere anche integrato da un dato di tipo parlando adesso di biochimica biochimico oggi ci sono l'omega screening tutta la lipidomica ci può dare anche più semplificando un rapporto tra acido garacchidonico a EPA e DHA e quindi quello che può essere uno squilibrio o meno se un'organizzazione mondiale quella della sanità anni fa diede come obiettivo mondiale salute portare questo indice a 4 a 1 vuol dire che una sua validità concettualmente ce lo ha anche perché il razionale cos'è che ci sono i mediatori risolutivi dell'infiammazione che vengono chiamate resso il vine e per quanto riguarda l'EPA di per quanto riguarda il DHA quindi quelle che risolvono l'infiammazione che aiutano a contrastarla quindi sapere se c'è uno squilibrio o meno a monte è importante poi la classe PCR reattiva soprattutto abbiamo una alta specificità agri specifici PCR che oggi è disponibile in moltissimi laboratori ma ce l'ho nella norma ma gli studi fatti anche in Italia questo studio in Chianti fatto in Toscana è evidenziato che il fenomeno importante non è averla alterata quello è indice di alterazione dello stato di salute sono già malato ho una infiammazione in corso ma avere determinati valori superiori a valori che normalmente rientrano comunque nel range di normalità sono indicatori di una condizione di infiammazione cronica latente quindi l'interpretazione del dato di laboratorio stress ossidativo stesso discorso è una bilancia collegato alla parte infiammatoria genetico ho fatto un T-genetico e mi ha detto la SO2 che funziona bene o male sì ma mi produce acqua ossigenata cosa succede dopo? perché se ho la catalase che funziona da D è un conto se la catalase che funziona male è un altro discorso quindi mi basta sapere come funziona un gene dello stress ossidativo o di avere una visione di insieme soprattutto che mi dà anche informazioni su quello che è il guardiano del genoma e dei meccanismi di NRA per che in realtà è la glutatione per ossidarsi quindi tutte informazioni che mi permettono di avere una visione di insieme che però deve essere anche questa incrociata con dei dati oggettivi geneticamente non ho una malattia non ho un'alterazione se ho una modifica di un gene ho più fattore di rischio ma il mio comportamento è il fattore determinante quindi le altre informazioni le devo prendere da quelle che è stato il mio vissuto vedremo poi anche il test biofisico ma anche dei test di tipo biochimico qual è la valutazione del rapporto tra molecole pro ossidanti radicali libri in un certo senso c'è la capacità di andare a misurare a valutare una barriera antiossidante plasmatica che è un mix di ciò che produco e di ciò che introduco con alimentazione o altre componenti ma l'informatore della società X è venuto da me e mi ha detto che posso fare l'auto HDG urinaria che mi dice se ho lo stress ossidativo no è una falsità scientifica assoluta mi dice se ho un danno ossidativo a carico del mio DNA punto quindi è già un fattore successivo io posso avere uno stress ossidativo in atto che non ha ancora creato un danno avere un danno frutto di uno stress ossidativo pregresso quindi non è un indicatore di stress ossidativo è un indicatore di danno ossidativo mi può dare informazioni sui meccanismi di NRA per sul danno del DNA quindi è un fattore aggravante più in là e perché può essere utile che se io so i tre meccanismi parlando in questo caso più di biochimica non sempre devo per forza ricorrere a degli antiossidanti mentalità curativa prendo il farmaco per curare una patologia ma posso andare a selezionare tutti quei micronutrienti che si sposano divinamente con il test presentato prima da spaggiare da un punto di vista epigenetico volvermente chiamato del capello perché? perché praticamente è un incrocio se uno ha con questa slide perfettamente chiara la biochimica di come tutta una serie di micro carenze incidono sullo stress ossidativo incidono sullo stato di salute incidono sul funzionamento di tutti i macrosistemi posso andare a vedere come anche in preparazioni galenico in preparati gencommercio posso creare dei cocktail personalizzati anziché dare il classico multicentrum di turno stesso discorso per la metilazione fondamentale per la lettura dell'espressione genica ha un marker l'omocisteina ma l'omocisteina è un po' discutibile per quanto riguarda il fatto di avere così tanta influenza a livello cardiovascolare certo non è così fondamentale lo è però a livello cerebrovascolare cosa fa il neurologo quando una persona ha avuto un ictus a quasi tutti i pazienti gli dà la folina domanda e perché per prevenire il secondo ictus sì forse avrei preferito prevenire anche il primo di ictus e non solamente il secondo quindi tutti quelli che sono i valori dell'omocisteina sono importanti però noi siamo antiquati il cd a milano ancora ieri documentato dal paziente riportava come valore normale 25 micromoli litro è un praticamente indicatore di assassinio allo stato puro perché il paziente dice oh 24 sto da dio sono nella norma quindi andare in V questi sono i valori americani pubblicati quest'anno vedete come si sono ulteriormente ridotti ah ma magari c'è un business di big pharma no perché intanto non esiste possibilità di andare a registrare nessun farmaco perché la si corregge con 4 interventi alimentari con 4 vitamine quindi non è che andiamo a registrare chissà quale farmaco quindi sono dati oggettivi differenziati per fasce di età e per sesso guardiamo qua abbiamo il nostro bel paziente che ha dato il cd gli hanno detto che ha 25 ha semplicemente il 120% di aumento di rischio di malattia cardiovascolare non è che sta così bene come invece percepisce dall'incrocio col dato ovviamente devo capire perché andrò a valutare anche l'acido folico la vitamina B12 lo zinco e guardate i dati di laboratorio dell'acido folico è normale sopra i 2,5 sì ma se ho 2,7 non è la stessa cosa quindi avere dei dati oggettivi incrociati con dati biofisici permette di avere più elementi di interpretazione di quella che è la situazione geni MTKFR condiziona tanti altri aspetti per quanto riguarda problematiche di tipo ginecologico per quanto riguarda ad esempio anche la prevenzione della spina bifida perché a seconda della presenza o meno di una mutazione etero-domo zigote condiziona anche il dosaggio d'acido folico durante la gravidanza della donna in letteratura però comunque va a se è presente spesso e volentieri non mi basterà agire con il prodotto finale l'acido folico B12 Zinco B6 ma devo dire agire con dei donatori di gruppi metilici cioè la trimetilglicina il SAM la S-adenoseil metionina per permettere l'ottimizzazione del ciclo biochimico dell'omocisteina ma anche qua tutta una serie di valori perché non possono altro che far peggiorare questo valore se contemporaneamente esistono sullo stesso gene un altro locus alterato e se tutta una serie di meccanismi metodina sintetasi redutasi eccetera vanno ad aggravare quel tipo di condizione averli tutti insieme mi permette una valutazione più oggettiva glicazione vado rapido si sa che forno gli age che non c'entra niente con la traduzione dell'inglese di age età sta per advanced glicade and products sono dei prodotti che interagendo con i raggi creano delle glicotossine ma questo fattore crea molecole alterate e non funzionanti oggi è un fattore fondamentale nell'ambito del processo di aging crea un'auto amplificazione guarda caso di che cosa tipologie di citochine infiammatorie di stress ossidativo allora io ho fatto un bel esame al mio paziente ha il D-ROMS alto non gli ho fatto nessun esame di infiammazione non gli ho fatto nessun esame di glicazione gli do degli antiossidanti torna il D-ROMS è sempre alto la barriera plasmatica antiossidante salita salita per forza gli ho dato degli antiossidanti ma se non ho capito perché è alto quel valore non ho dato assolutamente ad agire sui fattori causali quindi occorre sempre una visione di insieme perché magari è un problema di glicazione perché magari è un problema di infiammazione che mi alimentava quel tipo di problematica quindi occorre sempre una visione di insieme genetica ci sono dei fattori che come possono condizionare l'insulino resistenza condizionano anche questo tipo di aspetto ma anche qua una visione ricca non solo il peroxidome i PPAR ma anche il TCF7R2 che oggi è considerato importantissimo nell'ambito delle problematiche di insulino resistenza il PLIN che non è il gene dell'acqua pubblicizzata in televisione ma che modifica anche l'assimilazione a seconda del momento della giornata in cui io mi alimento ma è così vero che esiste una crononutrizione beh secondo il primo della medicina ritmi circadiani sia importantissimo geni orologio geni o clock e quindi tutta una serie di situazioni che possono andarlo a condizionare monitoraggio clinico ha come in tutti i check up ancora ieri me lo ricordo di questo paziente check up lcd glicemia e come glicata c'era no ma senza la glicata la glicemia oggi ha un'interpretazione parziale perché chiaramente ho un'informazione limitante a uno stato tra l'altro mille volte condizionabile da stress fenomeni variabili la glicata si modifica in 3-4 mesi quindi avere un'informazione più obiettiva più oggettiva e soprattutto nell'ambito della prevenzione il paziente è andato da un nostro collega aveva 5-6 di glicata risposta gli ha dato il medico guardi non si preoccupi torni quando ha il diabete il paziente non è che era così contento della risposta data dal nostro collega allora quella terra di nessuno è dove noi possiamo invece avere una strategia attiva proattiva di prevenzione in più l'indice OMA ci dà un dato più precoce dell'alterazione del metabolismo prima ancora che si venga a manifestare l'alterazione in atto medicina curativa detossificazione fondamentale in questo caso l'informazione dell'ambiente che possiamo ottenere da strumenti biofisici in cui a volte noi abbiamo ancora difficoltà io ricordo sempre scherzosamente che il primo esame che ho dato a medicina è stato l'esame di fisica perché la odiavo talmente tanto l'ho detto anche a Spaggiare l'altro giorno a cena che o lo supero adesso ma sicuramente questo è il mio collo di bottiglia ho preso anche trentelode non so ancora come ma si vede che la odiavo talmente tanto che l'ho anche studiata in modo più approfondito però è rimasto un particolare perché poi nell'escluso studi di biofisica non se ne è mai parlato se non al limite un po' nell'esame di fisiologia detossificazione fase 1 fase 2 ah che bello come detossifico la commissione della comunità europea ha stabilito che 100 grammi di affettati apportano se presenti quella quantità massima di nitrite e nitrati che non comportano un problema di salute sopra i 100 c'è l'effetto negativo di rischio per quanto riguarda le problematiche gastroenteriche di tipo neoplastico legate ai nitrite e ai nitrati ma è un dato statistico dipende da che cosa da come i miei citocromi attivano i carcinogeni e come la fase 2 li va a eliminare quindi se io sono fortunato me ne posso mangiare anche 120 se sono sfortunato me ne devo mangiare me ne 80 quindi chiaramente se ho modo di sapere come funzionano meglio peccato che noi ricordiamo i citocromi solo quando andiamo a guardare il foglietto il bugiardino di un farmaco dove c'è scritto a seconda del chip pinco pallo ha una biodispilità maggiore o minore ci sono più effetti collaterali meno effetti collaterali peccato che la stessa cosa vedremo fra poco incide sugli ormoni incide per quanto riguarda gli integratori incide per l'alimentazione incide per tutti gli xenobiotici ambientali con cui noi veniamo a contatto voglio sapere solo come funziona la fase 1 e la fase 2 da punta genetico costo una volta nella vita il paziente di questi test quelli ottenuti nella nostra associazione sono 49 euro quindi a vita il paziente con 50 euro sa esattamente come funzionano tutti i suoi meccanismi di tipo detossificante meccanismi DNA repair ricordiamo che noi abbiamo la possibilità di fermare la cellula riconoscerla ripararla o eliminare apoptosi utile la cellula una volta riconosciuta come danneggiata meccanismi DNA repair che possono anche in questo caso essere conosciuti premio nobile si sa tutto dei funzionamenti siano quelli sono i geni che vanno tipi 53 eccetera a produrre questo tipo di meccanismo riparativo se geneticamente sono favorito riparo bene se geneticamente sono sfavorito riparo male ma non è informazione gratuita posso andare a cercare di ripristinare una situazione di equilibrio un altro elemento che può essere importante per l'invecchiamento cerebrale il brain derivate neurotrophic factor anche questo è un ottimo meccanismo per individuare in chiave di benessere un macro di quello che può essere una diminuzione della plasticità neuronale di quello che può essere un discorso di invecchiamento cerebrale deficit mnesici posso poi stimolare la plasticità neuronale altro dogma della medicina le cellule i neuroni sono cellule che non possono più essere riprodotte esistono oggi aree di cellule staminali nel sistema nervoso soprattutto nell'ipocampo che se opportunamente stimolate perfettano la formazione di nuovi neuroni di conseguenza in questo caso è il DHA un omega 3 particolare che in cui essendo i neuroni cellule grasse per definizione sono assetate affermati DNA con l'alimentazione come esiste la ginastica vascolare esiste anche la ginastica cerebrale posso andare a modificare questa azione oltre ad integratori a base di taurina o la stessa attività fisica importantissimo qua andrò rapido perché qua occorrerebbe un corso ad hoc ma il microbiota è fondamentale oggi prima di venire leggevo a colazione il Corriere della Sera la scoperta dell'acqua calda la steatose epatica che è condizionata la nostra alimentazione se mangio meno carboidrati e più proteine trago beneficio perché vanno a modificare il rapporto tra firmicutesi e bacterotis a livello del microbiota intestinale sì ma non è che si sa oggi come se fosse una novità incredibile ma posso avere informazioni ma le informazioni non devono essere tanti test che rappresentano mi dispiace dirlo soprattutto in Italia un business e basta il test mi deve dire informazioni sì su quella che è la variabilità sì su quelle che possono essere rapportate a una persona sana agli squilibri tra quelle che sono le principali caratteristiche ma tu mi devi anche dare a dare delle indicazioni pratiche come diceva prima il collega interpretative perché il problema spesso nostro qual è ah che bello sì ma cosa vuol dire cosa devo fare dopo il momento in cui io posso vedere i valori elevate o meno incrociati con le varie sindrome mi può permettere una tabella di poter avere anche un quadro più esaustivo di quelle che possono essere le situazioni e quindi anche delle le gente che mi vanno a guardare problemi di infettivi che mi vanno a modificare la permeabilità dell'intestino l'infiammazione a livello del microbiota la permeabilità lo sbilanciamento quindi tutta una serie di situazioni che possono poi permettere una guida interpretativa di situazioni che mi possono poi anche andare a giustificare determinate poi terapie sul piano clinico zonulina altro marcatore nelle feci che è un indicatore ottimale di permeabilità e la permeabilità alterata oggi è una causa di tante anche sensibilità chimiche che si vengono a instaurare e che hanno sdoganato il concetto di intolleranze anche se temene secondo me è improprio perché più di sensibilità che non di intolleranza legato proprio a questi fori che si vengono a realizzare a livello del nostro intestino ne ho già parlato prima a spaggiare quindi qua vado veloce però richiamo semplicemente questo concetto e cioè l'utilità del test di tipo epigenetico è anche perché ci dà un'informazione sugli indicatori dei sistemi quello che io chiamo macrosistemi a volte abbiamo una visione un po' piccola guardo solo la carenza di vitamina D quando la carenza di questo ma nell'insieme queste carenze tra loro come vanno a ottimizzare o inficiare l'azione dei macrosistemi quindi avere anche una visione di target poi di bersaglio della mia azione può sicuramente essere un'altra informazione utile mitocondrio questo lo ricordo sempre ed è una delle ultime slide perché è fondamentale nell'ambito del processo di invecchiamento di salute ma oggi vedete la disfunzione mitocondriale come è collegata a tutta una serie di problematiche questo nell'ambito del sistema nervoso centrale con il nostro dipartimento di biochimica clinica e patologia clinica si è andato a valutare un test sulle urine di tipo proteomico che va a guardare dei marcatori a livello di urine che possono anticipare di anni problematiche legate al difetto di funzionalità del mitocondrio in ultimo visto che oggi era legato anche discorsi di ginecologi infertilità o meno ricordo che come esiste il colestero buono e il colestero cattivo esistono gli estrogeni buoni e gli estrogeni cattivi e che sono qua si vedono poco CIP1A1 CIP1A1 CIP3A4 CIP1B1 COMT tutti questi sono attività citocromiali del CIP450 nelle sue soforme che condizionano che cosa? L'attivazione di estrogeni buoni protettivi estrogeni cattivi invece che possono avere uno stimolo carcinogenetico quindi non mi basta più andare a dosare un estrone un estradiolo ma il rapporto tra queste micromolecole perché? Perché attraverso un intervento epigenetico indollo trecarbinolo sul suarafano di indulmetano presi quanto tali attraverso alimenti io posso creare un switch e quindi se ho una stendenza sfavorevole ecco vedete la freccia più in grassetto io posso attraverso la loro somministrazione fare un switch e ripristinare una condizione di equilibrio questo test si chiama Estramet test c'è ormai un'ampia letteratura questo è un estratto che ho voluto semplicemente portare alla vostra attenzione in cui si ha oggi la possibilità nelle urine di dosare il rapporto tra estrogeni buoni estrogeni cattivi quindi capire di più degli ormoni che cosa sta succedendo nel paziente in conclusione abbiamo la possibilità di realizzare con un'infrazione completa una guida per il paziente che è fatta di integratori strategie di recupero fisico azione sullo stile di vita e via discorrendo e quindi il paziente arriva viene esaminato non si può semplicemente come diceva San Raffaele pochi anni fa quando ancora c'era Don Verzee non sarà più il medico a dirti come curarti sarà il tuo DNA è una grande corbelleria non si può andare a vedere il DNA isolandolo da quello che è un quadro generale del paziente il paziente va sempre visitato l'anamnesi è sempre importante investigazioni tradizionali test genetici valutazioni di tipo biofisico valutazione dell'esperto quindi informazioni che arrivano utili come interpretazione perché sono dei dati oggettivi che possono essere interpretati il medico voi io siamo in grado di poter stabilire che cosa un approccio il più possibile personalizzato questo è un pochino l'obiettivo finale di un percorso diagnostico valido letteratura non ve l'ho potuta mostrare tutta l'anno scorso a maggio è uscito questo libro fatto insieme a tutta una serie di colleghi nutri genomiche ed epigenetiche della biologia alla clinica dove vengono affrontati tutti questi aspetti clinici per dare delle informazioni anche pratiche la medicina delle leggi dell'antigi è uscito l'anno scorso e quindi sono tutti i testi che potrebbero ampliare la conoscenza di questi argomenti e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie